Noi visualizziamo il tempo come una linea retta. Invece è una spirale. Potrebbe uscire di casa e in un minuto tornare bambino. Non ti ho presentato la mia amica allora. Non ti sei fatto male. Mia moglie. Proprio come pensavo. Quanto farei, mi siete piaciuti. È molto interessante. Brutta, ma interessante. Non lo so, è davvero brutta. Vedi, non serve a niente ripararsi dal vento. Non preoccuparti. Alla fine vedrai che andrà tutto bene. Andiamo a ballare. Sì, andiamo a ballare. Come stai? Ho divorziato. Volevo dire come stai oggi. Bene, visto che ho divorziato oggi. Non siamo sempre tristi. Così come non siamo sempre felici. Non siamo mai stati bravi a dirci quello che provavamo l'uno per l'altro. Ed è da questo che so che abbiamo provato molto. Non vorrei mai tornare all'inizio. Io lo vorrei.